Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo retro gaming di Spyro Aerostyle, ho già recuperato altre di quelle bombe, così che possiamo concludere subito questo di qua, perfetto, ci mancano se non ho 10 o addirittura solo 9 uova, e allora... 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 Ok... E allora... 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 E... E allora... E allora... E... 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 Grazie. 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 Ma che cazzo di problemi ha? Non salta! Ma che cazzo? Ma che cazzo? Assurdo. Ora sa, ok, finalmente. Grazie. 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 Buttana Cioè ma quanti cazzo me ne arrivano No è impossibile È impossibile Sono troppi Ma non si avvicina quello Ah perfetto Io quasi sbaglio e muoio Porca buttana Come cazzo faccio evitarlo Ok non mi basta Devo fare questa scala pure sti vermi Ok finalmente Questa è una menda Finalmente ce l'ho fatta Cioè qui non finirò mai Aspetta io dovrei saltare da quella parte Siamo seri Ok Eh Ok Eh ma se torno indietro come faccio Ma il problema è un altro Ci sono anche i ragni No è impossibile È impossibile È impossibile Cioè come quale cazzo di logica riesco a farmi tutto quel pezzo Cioè io questa cosa io penso che mi porta anche in cima Ma vaffanculo Penso che mi porta anche in cima Non voglio dire nulla Perché saliva Spero di sì Spero di sì E mi ha detto tutto quel passaggio Perché Oh no Spero di sì Spero di sì E io ho oltre 5 bombe Ma mancano ancora Altre cose da distruggere Mi pare che uno era all'inizio Però non so se qua Ce ne potrebbe essere un altro Eh l'altro è sotto Cioè uno è qua sopra e l'altro di sotto Bene Ti pareva Io non capisco perché C'è sto cazzo di bug E queste cose cadono C'è tanto È assurdo Se ne dà più avanti E cade Questo gioco è tutto buggato E ora non lo rompo Quando ci scommettete Ah meno male Il problema è che L'altro è qua sotto Però il problema è che Andare qua sotto Non è per niente facile Eh io Devo riuscirci in questo modo Perché farmi tutto quel pezzo In quel modo Io la vedo fuori discussione Ecco Beh ci vuole solamente un po' di ingegno Cazzo no 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 Ancora Devevano finirne o poi Ok Non so quante bombe mi sono rimaste Spero due Perché Ci sono questi di qua Da rompere Più quella La gemma Non avevo tre Per fortuna Perfetto Ok Finalmente Ci abbiamo piegato Un'eternità Ecco ti ho trovato Una gemma di luce Ok Dobbiamo scendere ancora Mi sa che si Premetto che ancora Qua non ho guardato la guida Quindi sto proseguendo Da me stesso Spero che dobbiamo andare qua Forse abbiamo il boss Se abbiamo il boss Mi sa che dobbiamo concludere il video Perché ci impiegherà Un'eternità D'ucciderlo Ma Quello è l'acido Ok si è fermato Ok Dattemi un attimo Vabbè Secondo Secondo me Non Non c'è tanto Da fare ancora No Non c'è un salvataggio Non so Ma vaffanculo Devo rifarmi tutto Ora Stop il video E appena arrivo sotto Riprendo Ok Sono arrivato Di sotto Ora Non facciamo la stessa Minchiata di prima E salviamo Quante uova Ci mancano Ok Ora ce ne mancano Proprio nove E mi sa che Sì Abbiamo trovato Tutte le uova Di drago Di questa zona Non vedo altri punti alti Quindi Penso Non lo seguire Porca butana E non ha rischio Buttiamoci Ma Il senso Cioè io vorrei capire Come devo fare Ah Ho capito No raga Qui La vedo impossibile La vedo impossibile Come cazzo faccio Ma poi Io vorrei capire Come Il creatore Di questo gioco Si è fumato Canne Cioè Porca butana Come si fa Passata verso E ti pareva No Ci passa attraverso Ci passa attraverso Ma porca butana Ecco Il problema È che Seriamente Seriamente No raga Non ce la farò mai Dobbiamo fermarci Qui però Dice Qui io Sclerò di brutto Come cazzo faccio Cioè Quelle cose Cadono Quello Sirvi Un bel ghiaccio Cioè No Veramente Se vi è piaciuto Come sempre Vi lasciate un bel mi piace Per questo video È tutto E noi ci vediamo Alla prossima Ciao